Ciao, sono Giulia, Giulia Cappa. Sono contenta che tu sia qui. Nessuno veniva più a trovarmi, da anni ormai. Devo raccontarti la mia storia, lo so, ma non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose che... Dovrei iniziare dalla mia infanzia, ma di quel periodo ricordo così poco. Solo quell'estate era il 29, mi sembra, quando fui mandata a stare dalla tata. Tata, mi racconti la storia della dama bianca? No, passerotto, non questa sera. Sta salendo la nebbia, vedi? Sì, lo so che la dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia, ma perché è così cattiva? Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive, anche se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la dama, ho deciso tata. Poverina, soffre così tanto, però continuo a farmi un po' paura, sai? Io sarò presto una giovane donna e lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene. Certo che no. Allora io mi sento più tranquilla. Io le voglio bene. E mia sorella Marta? È in pericolo. Marta è con la mamma. Puoi stare tranquilla. Ti mancano? No, cioè, sì, mi manca un pochino Marta, ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, tata. Dormo. Sognerò la dama. Era molto bella. Era molto bella, sì. Molto bella. Allora io la sognerò bellissima. Io sarò bella? Bella come lei? Tu sarei ancora più bella di lei. Senti, tata, visto che la dama non mi farà del male perché le voglio bene. E visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? Ti prego, dai. Va dormo, promesso. E va bene. L'hai sempre vinta tu, piccola peste. Amavo la tata e amavo quella storia. Ogni volta che la sentivo era come nuova e mi stregava sempre di più. Tutte le sere le chiedevo di raccontarmela, anche se mi faceva paura. Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Come ero felice. Un'antica leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna, morta per mano dell'uomo che amava. Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago. il desiderio, le speranze. Ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. Poverina però, non è giusto. La vita non è giusta, tesoro. Ma è la vita e dobbiamo imparare ad accettarla. Ci proverò, però mi fa una rabbia. L'ha agitata. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia e fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. Da allora il suo spirito, conosciuto come la dama bianca, vive prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Quando si alza la nebbia, la dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. La dama esige la vita di una giovane donna, ogni qualvolta gli eventi risvegliano in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti la dama si libera del fardello del suo dolore. Buonanotte, tata. Buonanotte, amore mio. Passai dalla tata quasi tre anni, poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felice. Fu dopo 15 anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa e che... Stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco, vicino al lago. Un congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto. Cercavo di fotografare gli animali, o qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto. Arrotolare il rullino, aprire la macchina. togliere il rullino vecchio, mettere il rullino nuovo, chiudere la macchina. caricare, attivare il temporizzatore. Ci siamo quasi. Devo solo mettere a fuoco l'immagine. C'è qualcosa sulla superficie dell'acqua. Se la inquadro meglio, forse riesco a vedere di cosa si tratta. Ma... ma... è una persona. Devo aiutarla. ero inorridita all'idea che qualcuno potesse essere annegato nel mio mondo. Era il mio mondo quello. Ci passavo intere giornate a fantasticare. Mi perdevo nei miei pensieri e quel risveglio. Fu terribile. ... 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 Devo stare calma, Marta non è morta, non è possibile, non è vero, lo sentiamo. Tutto andrà. Marta, 26 febbraio 1923. Tutto bene? Ti sei fatta male? Cosa stai combinando? Vai Erich, corri! Ricorda. Pensava che fossi Marta. Non volevo far sbagliare tutto, così feci timidamente e cenno di sì con la testa. Non mi resi conto di aver invocato una via senza ritorno. Avrei dovuto far finta di essere Marta, per sempre. Signore, vita di chi muore. Sì, è il tuo sacrificio d'amore offerto per l'anima di Marta. Nelle tue mani affido anche il mio umile spirito, perché io possa ritrovarla nella luce perpetua e non desolatissima gemere nel purgatorio. Eterno riposo dona le Signore e splenda la luce eterna. Parla, Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Luce non è... Annalazionza. 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 Che succede? Chi è chiusa la porta? di cosa parlano ma non puoi stare sempre qui vai a letto no 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 voglio rimanere con mia figlia tua figlia tua figlia ne hai un'altra di figlia sai quella viva ti ricordi ma cosa dici Irene Giulia è morta che discorso è questo come puoi appunto dovresti pensare a Marta a lei Giulia ha fatto un bel regalo lo sai vero è come se non bastasse ora l'ha anche lasciata sola la solita storia che tutto è colpa di Giulia vero Marta è sorda tu che non puoi aver figli ma ti sembra il momento Giulia è morta Irene morta qualcuno l'ha uccisa te ne rendi conto certo che me ne rendo conto lo capisco cosa credi se non lo capisco io sempre problemi solo problemi sarebbe stato meglio se non fosse nata per niente tu sei pazzo io sono pazzo io lo hanno fatto per colpire me e così sono io la causa della tua morte ho saputo farti solo del male Giulia povera dolce strampalata Giulia come farò senza di te come sarà la vita ora tutto il tempo che non ho saputo spendere con te ora sono a casa possiamo andare a pescare insieme possiamo fotografare le farfalle no non possiamo fare più niente insieme vero più niente mentre i bombardamenti anglo-americani continuano a devastare le pacifiche città della Valdelsa è con grande dolore che apprendiamo quanto accaduto nei pressi della Romola la giovane figlia del generale dell'esercito tedesco Eric Cappa è stata assassinata nei pressi della sua abitazione che ragioni possono esserci dietro un atto così vile è quello che sperano di scoprire i carabinieri che sono subito intervenuti la mamma non sembrava soffrire molto forse le dispiaceva che la mia morte fosse così dolorosa per Marta ma non avermi più intorno per lei doveva essere un gran sollievo in fondo era meglio per tutti che a morire fossi stata io e sarebbe stato meglio anche per me che gli altri lo pensassero ma il senso di colpa iniziò a divorarmi fu allora che cominciai a fare quei sogni orribili la mia morte è stata fatta 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 la mio morte è stata fatta la mia morte è stata fatta Grazie a tutti. Grazie a tutti.